L'inverno sta arrivando. Calma, calma, è vero, l'inverno sta arrivando, ma prima ancora è alle porte l'autunno, una stagione in cui comunque le temperature si abbassano e la salute ne risente. Come fare per aiutare quella dei nostri compagni a quattro zampe? Sostenendoli al meglio in modo efficace e in tutto per tutto naturale, anche in previsione dell'inverno. In questo video ti parlerò di un'arma che ti potrà essere di grande aiuto, dei probiotici. I cambi di stagione sono sempre un momento delicato per i nostri animali, anche e soprattutto per i cambi di temperatura repentini a cui sono esposti. L'autunno è proprio uno di questi periodi dell'anno in cui il loro metabolismo ha bisogno di aiuto e il loro sistema immunitario di irrobustirsi. Del resto, se ci pensi, i mesi autunnali sono sempre stati quelli in cui le nostre mamme iniziavano a rifocillarci di ricostituenti e vitamina C, sperando in questo modo di scongiurare le nostre assenze scolastiche, causa influenza o acciacchi vari. Beh, per i cani e per i gatti vale la stessa cosa. E per sostenere al meglio il loro organismo, le parole d'ordine devono essere depurare e rinforzare. Come? Gli strumenti più efficaci sono due, un'alimentazione sana e l'utilizzo di probiotici. Adesso ti dirò esattamente cosa sono e perché sono così importanti. Ma attenzione, ti indicherò poi anche un prodotto ricco proprio di questi microorganismi, che ti potrà essere di grande aiuto. Per capire cosa sono i probiotici, rifacciamoci alla definizione che ne dà l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E cioè quella di organismi viventi che, somministrati in adeguate quantità, producono una serie di benefici sull'organismo. In particolare, sono in grado di riequilibrare la flora microbica dell'intestino. Questa è la funzione principale e più importante dei probiotici. A differenza dei fermenti lattici, infatti, solo i probiotici riescono a superare indenni lo stomaco e arrivare quindi vivi e vitali all'interno dell'intestino. E sono così in grado di rinforzare tutto il microbiota. Di quanto sia importante tutelare la salute del microbiota intestinale, ne avevo già fatto cenno nel video riguardante i 5 falsi miti dell'alimentazione del cane, che, se ti sei perso, puoi recuperare qui. Pare la pena comunque mettere bene a fuoco tutte quelle che sono le principali funzioni del microbiota. Il microbiota, infatti, oltre ad incidere sul comportamento dei nostri animali, svolge anche una funzione metabolica, consentendo o meno l'assimilazione dei nutrienti, e svolge poi una funzione di barriera contro le infezioni, evitando che virus o batteri prolifichino. Oltretutto, il microbiota influenza il sistema immunitario, regolandone la risposta e garantendo così uno stato di immunità. Capisci quindi quanto sia importante garantirne la salute? Per farlo dovrai tutelare la quantità e la varietà dei virus, batteri e funghi che lo compongono. Maggiore sarà la varietà e la quantità, maggiore sarà la salute del tuo animale. Diversi studi, tra cui quello italiano pubblicato sulla piattaforma di ricerca scientifica Biomed Central, di cui trovi il link in descrizione, hanno dimostrato come un'alimentazione sana, fatta con alimenti freschi, aiuti tanto in questo. Tuttavia, ci sono situazioni in cui l'organismo di cani e gatti ha bisogno di un aiuto in più, proprio come i cambi di stagione. Ed è in queste situazioni che un'integrazione quotidiana di probiotici diventa fondamentale. Ed è per questo che adesso ti farò conoscere un prodotto che ti potrà essere di grande aiuto. Il prodotto in questione è il Pro 5 di Reiko Vital System. È un integratore che fa parte della linea Nature Craft, una linea di integratori in tutto e per tutto naturali, come del resto ogni prodotto Reiko, per la cui formulazione l'azienda si avvalsa della collaborazione di biologi e farmacisti specializzati. Fra poco aprirò con te una confezione e ti farò vedere esattamente come si presenta, ma prima devo assolutamente spiegarti le straordinarie potenzialità della sua composizione, che ha infatti una triplice valenza. In primo luogo è un integratore di probiotici, grazie alla presenza di erbe aromatiche fermentate e specifiche colture probiotiche. In secondo luogo, ti ricordi quali dovevano essere le nostre parole d'ordine per supportare al meglio l'organismo dei nostri animali nei cambi di stagione? Depurare e rinforzare. Bene, la composizione del Pro 5 ti permetterà di svolgere anche un'azione depurativa, attraverso i semi di cardomariano, che agiscono soprattutto a livello epatico, e dalle foglie d'olivo e del finocchio, che oltre a depurare previene anche la formazione di gas intestinali e a proprietà antinfiammatorie. Inoltre, questo integratore ti permetterà anche di stabilizzare il funzionamento dell'intestino e del processo digestivo in generale. Tutto questo attraverso il tarassaco, che rinforza la flora batterica, i semi di lino, che migliorano le capacità digestive, i carciofi e la curcuma, che migliora la produzione di bile e il flusso nell'intestino. Insomma, il tuo cane e il tuo gatto non potrebbero chiedere di meglio. A proposito di gatto, stai già pensando che sarebbe comunque impossibile far mangiare un integratore al tuo felino? Reiko ha pensato anche questo. Tra gli ingredienti, infatti, c'è della carne di manzo macinata e tritata finemente, così da rendere questo prodotto più appetibile anche ai palati più esigenti, come quello dei felini. Beh, adesso immagino che tu voglia vedere più da vicino di che cosa si tratta. Il prodotto si presenta in un unico formato da 400 grammi. Già da subito, dalla confezione, capiamo che è un prodotto indicato sia per i cani che per i gatti. La confezione, la parte principale, è tutta in cartone. Questo lo rende facilmente riciclabile, anche perché all'interno il cartone non è ricoperto da nessuna particolare sostanza. Il prodotto si presenta appunto finemente triturato. È praticamente polvere. Guarda, così forse la vedi meglio. È veramente una polvere molto sottile. Del resto, tutti gli ingredienti, in particolar modo le erbe, sono state prima essiccate e poi sfibrate e infine micronizzate. Questo particolare processo che fa sì che tutte le sostanze entrino in circolo molto più velocemente. Tra l'altro, questo processo di lavorazione toglie ogni genere di umidità e quindi la possibilità che si creino delle condense. Questo fa sì che il prodotto si possa conservare facilmente anche al di fuori del frigorifero. All'interno trovi appunto un misurino. Un misurino corrisponde più o meno alla dose di 5 grammi, che è proprio la dose che dovrai aggiungere per ogni 10 kg del peso del cane, una volta al giorno, direttamente all'interno della pappa. In ogni caso, se desideri maggiori informazioni sul dosaggio e la modalità esatta di somministrazione, non ti resta che contattarmi. Sarò solo felice di poterti essere d'aiuto. Parliamoci chiaramente. Uno dei più frequenti problemi che noi proprietari abbiamo con i nostri animali di casa riguarda la sfera gastrointestinale. Non è un caso che uno degli argomenti che più ci appassiona riguardi proprio le loro feci, che analizziamo con un'attenzione tale da fare invidia a qualsiasi laboratorio d'analisi. Beh, in generale facciamo bene, perché la salute dell'intestino è fondamentale, o meglio, ad essere fondamentale è la salute del microbiota intestinale, che, come abbiamo visto, influisce a 360 gradi sul loro stato di salute. Attraverso questo prodotto hai la possibilità di essere loro di grande aiuto, intervenendo in maniera semplice, efficace e naturale al 100%. Io personalmente ce l'ho sempre in casa, perché questo prodotto è davvero utilissimo in tantissime situazioni, non solo nei cambi stagione, ma ogni volta che l'organismo è un po' fragile. Durante e dopo cure antibiotiche, in caso di diarrea, specie se acuta e cronica, in situazioni di stress, agitazione, particolare sforzo fisico, situazioni queste che non ci pensiamo, ma influiscono a livello intestinale. Il PRO 5 è poi molto utile in tutte le situazioni di malassorbimento o durante i cambi cibo. La sua efficacia è evidente e si vede già nell'arco di pochi giorni senza dover attendere settimane, tant'è che c'è chi l'ha definito la polvere magica. Insomma, se vuoi correre a ripari intanto che l'inverno sta arrivando, contattami subito per provarlo. Trovi il link in descrizione. Siamo arrivati alla fine di questo video, se ti è piaciuto lascia un like e ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perderti i prossimi contenuti.